E' stata firmata questa mattina presso Fira Station a Pescara la convenzione tra la Fira Finanziaria Regionale Abruzzese ed il gruppo European Brokers tesa alla realizzazione del nuovo progetto Fira Fintech, parte integrante del programma Abruzzo che cresce della finanziaria regionale e che consentirà alle imprese abruzzesi di poter accedere a nuove linee di liquidità attraverso la tecnico-finanza. Il progetto consentirà dunque alle imprese che operano in Abruzzo di poter smobilizzare in modalità prosoluto crediti verso la pubblica amministrazione, crediti commerciali, crediti legati all'export finance e al fin import. Tramite la piattaforma che metteremo a disposizione, tramite il partner European Broker daremo la possibilità tramite il nostro portale e la loro infrastruttura web di poter dare il servizio di scondo fatture, anticipo del credito, crediti che riguardano sia le aziende private che verso la pubblica amministrazione. Un passaggio molto importante, la Fira sarà ovviamente il protagonista ed è la prima finanziaria regionale ad adottare questo sistema che mixa assicurazioni e finanza andando a mitigare il rischio e a fornire alle imprese accesso a strumenti di liquidità alternativi al sistema tradizionale bancario. Possiamo dire che è un sistema, è un progetto innovativo questo? È un progetto innovativo che riprende anche esperienze già molto percorse all'estero e in altri paesi, mira soprattutto sulla supply chain finance, quella catena e filiera del mercato che oggi vale quasi 500 miliardi di euro e di cui solo il 30% è assistita da strumenti di finanziamento del capitale circolante, quindi darà sicuramente impulso al territorio e valorizzazione alle catene produttive della regione Abruzzo.